I segni del sacro, che un tempo erano quasi l'unico tema dell'arte, abitano nella mostra che nel braccio di Carlo Magno in Vaticano testimonia con 150 opere grafiche, il florilegio degli archivi vaticani, ricchi di ben 8000 pezzi analoghi. Chagall, Miró, Matisse, Clé, Dix, Boccioni, Casorati, Morandi, sono solo alcune delle firme in mostra. La grafica è un materiale che per sua natura richiede cure molto molto particolari e quindi ama vivere al buio con temperature e umidità controllate, quindi decidere di fare una mostra per far conoscere questi tesori significa un'occasione molto speciale che durerà il tempo della mostra, poi le opere torneranno in buona parte nei depositi a conservare. Le opere su carta sono intrecciate con tutte le altre forme espressive di sperimentazione della modernità. Queste testimonianze sono in esposizione in Vaticano fino al 29 febbraio.